La morte di Aldonaro, intervento dei familiari sul processo per Rissa, siamo ancora in primo grado. Caltanissetta, prevenzione all'abusivismo commerciale, tavolo tecnico in questura. Gite scolastiche sicure, la polizia esegue controlli su due pullman. 5 Stelle, si dimette il capogruppo Michele Doro. Tomaselli, il caso delle linee, il presidente della federazione italiana rugby, scrive al sindaco. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Va per le lunghe il processo per Rissa legato alla morte di Aldonaro. Tempi della prescrizione che si avvicinano, i familiari intervengono. Sentiamo il servizio. Ancora un rinvio nel processo per la Rissa legato all'omicidio del giovane medico sancataldese Aldonaro, con le accuse per i tre imputati ormai prossime alla prescrizione. Una situazione che ha spinto i familiari dello sfortunato giovane a dire basta, tanto che hanno deciso di non essere più presenti alle udienze che si svolgono davanti al giudice monocratico di Palermo. Aldonaro venne ucciso il 14 febbraio 2015 nel corso di un parapiglia, scatenatosi all'interno dell'ormai ex discoteca Goa di Palermo, nel quartiere Zen, durante una festa di carnevale. I colpi ricevuti non lasciarono scampo al giovane professionista. Attualmente è in corso un processo per omicidio in corte d'assise a Palermo, che riprenderà nelle prossime settimane. In questo caso sono imputati gli ex buttafuori del locale Francesco Troia, Antonino Basile, entrambi rispondono di rissa aggravata, e Massimo Barbaro, il proprietario dell'ormai ex discoteca, che risponde di favoreggiamento nei confronti di un minore, finora l'unico condannato per l'accusa di omicidio, in quanto non avrebbe riferito alcuni dettagli agli inquirenti, agevolandone la fuga. I genitori di Aldonaro, il generale dei carabinieri Rosario Naro, la moglie Anna Maria Ferrara e la sorella della vittima Maria Chiara, parti civili con gli avvocati Salvatore Falzone e Antonino Falzone, hanno affermato non è tollerabile che un processo del genere possa trascinarsi stancamente per un così lungo periodo di tempo. Siamo ancora in primo grado e con ogni probabilità i reati cadranno in prescrizione. La nostra pazienza è stata messa a durissima prova. Rinvii troppo lunghi tra un'udienza e l'altra, ripetute assenze di testimoni, continui forfè da parte di consulenti tecnici di parte, senza che sia mai stato disposto il loro accompagnamento coattivo. È come se non bastasse la mancata nomina dei periti per la trascrizione delle intercettazioni fino allo scorso luglio. La squadra mobile di Enna ha eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare a carico di un uomo sottoposto a indagini per violenza sessuale su una ragazza. L'indagato era già stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal GIP del Tribunale di Enna, su richiesta della Procura. Nonostante le prescrizioni applicate, l'uomo si sarebbe avvicinato alla presunta vittima, violando in tal modo la misura applicata. Adesso il destinatario del provvedimento si trova agli arresti domiciliari. Prevenzione all'abusivismo commerciale, un tavolo tecnico in questura. Oggi in questura a Caltanissetta si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico per la prevenzione dell'abusivismo commerciale. Incontro presieduto dal questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, di cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Municipali, dei Comuni Maggiori, i componenti dell'ASP e dei Vigili del Fuoco. Ha previsto la programmazione di specifici servizi per la prevenzione e la repressione dell'abusivismo commerciale, come previsto dagli indirizzi stabiliti l'8 settembre scorso per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in Prefettura. Già da qualche settimana hanno avuto inizio i controlli interforze che hanno come scopo quello di far rispettare la legalità in tutti i settori commerciali e in particolare in quello itinerante, tutelando così gli operatori che rispettano la legge, i regolamenti di settore, i limiti delle licenze di cui sono titolari. Sono infatti operatori commerciali a rischiare di subire la concorrenza sleale da parte di soggetti improvvisati o di abusivi professionali e di un inquadro sociale attuale e complesso, l'intervento interforze voluto dal tavolo tecnico diventa indispensabile. Politiche sociali dalla Regione 32 milioni di euro alle aziende sanitarie provinciali per i disabili gravissimi. Complessivamente 12.196 le persone interessate in tutta l'isola. La ripartizione delle somme trasferite a Caltanissetta, che incarico 970 casi, 2.510.771 euro. Ad Agrigento, 1.045 disabili, 2.779.560 euro. A Catania, 2.957 disabili, 7.263.360 euro. A Enna, 443 disabili, 1.025.760 euro. A Messina, 1.775 casi, 6.622.440 euro. A Palermo, 2.386, 6.344.480 euro. A Ragusa, 582 casi, 1.467.080 euro. A Siracusa, 666 casi, 1.550.160 euro. A Trapani, 1.372 casi, 3.209.939 euro. Gite sicure, controlli della Polizia Stradale su due pullman rilevate delle irregolarità. La Polizia Stradale ha eseguito alcuni controlli su due pullman che dovevano essere utilizzati per delle gite scolastiche, rilevando irregolarità ed elevando le sanzioni previste dalla legge. Nel primo caso, gli agenti hanno accertato che un autobus noleggiato da una scuola nissena per una gita scolastica aveva un portellone, utilizzato anche come uscita di sicurezza, non funzionante, creando così un pericolo in caso di emergenza. I poliziotti hanno quindi fermato il bus e la ditta di trasporto interessata ha rimediato, mettendo a disposizione degli alunni un nuovo autobus. La seconda sanzione è stata invece inflitta per la mancanza su un altro pullman dei martelletti in rompivetro e della cassetta di pronto soccorso. La Polizia Stradale da alcuni anni ha avviato una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, assicurando alle scuole che ne fanno richiesta un servizio di controllo sia prima della partenza che nel corso del viaggio, sui mezzi di trasporto dedicati alle visite di istruzione. Andiamo alla politica. Si dimette il capogruppo consigliare dei 5 Stelle, Michele Doro. I particolari. Dopo tre anni da capogruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere comunale Michele Doro annuncia le sue dimissioni. Dopo aver svolto il suo ruolo con impegno e nel rispetto dei suoi colleghi, ha deciso di lasciare il ruolo ad altri consiglieri che prenderanno il suo posto. Il suo lavoro continuerà nel sostegno dell'amministrazione comunale, come ha sempre fatto. Il gruppo consigliare è stato informato delle sue intenzioni e presto si saprà il nome del suo successore ed è lì che si formalizzeranno le sue dimissioni. Io sono stato nominato capogruppo del Movimento 5 Stelle nel novembre del 2019, quindi quasi tre anni fa. Solitamente noi ruotiamo il capogruppo ogni sei mesi, ogni anno e quindi era un po' anomala la mia permanenza in questo ruolo. Lo sono stato finora perché il gruppo mi ha sempre dato fiducia, mi ha sempre chiesto di continuare. Ringrazio quindi tutti i colleghi che finora mi hanno dato fiducia e auguro al mio successore di svolgere il ruolo in maniera migliore di quanto non l'abbia potuto fare io. Sarò sempre a fianco dell'amministrazione, sosterrò le azioni del Movimento perché questo vuole la città, che si realizzi il programma con il quale ci siamo presentati e questa è una promessa che abbiamo fatto e intendiamo mantenerla sino alla fine. Quindi auguri al successore, al gruppo e all'amministrazione attiva. Tiene ancora a banco il caso del tracciamento delle linee allo stadio Marco Tomaselli. Sentiamo il servizio. Continua a tenere a banco la questione legata al Marco Tomaselli. Il campo, oramai pronto alla consegna per lo svolgimento delle attività sportive, attraversa uno spinoso problema legato alle segnature del campo da gioco per far coincidere le attività di calcio e del rugby. Ieri, in una nota recapitata al sindaco, il presidente della Federazione Italiana Rugby Innocenti, ha scritto il suo disappunto per la vicenda delle segnature del campo che vanno effettuate secondo capitolato. L'intarsio delle linee del polivalente rettangolo di gioco rugby-calcio non è stato eseguito secondo ciò che è previsto nel capitolato e che rischia di evolvere in maniera estremamente negativa. E se l'adeguamento dei lavori non dovesse avvenire in tempi brevi, la Federazione Italiana Rugby sarà costretta a percorrere vie meno amichevoli. In tal senso ne abbiamo parlato con l'assessore Marcello Franciamone che ha seguito i lavori del Tomaselli. Ho chiesto all'ufficio tecnico di approfondire la questione anche se, devo dire, non credo che debba essere centrata solo ed esclusivamente sugli aspetti del capitolato tecnico, ma si tratta di attività sportive e quindi credo che sia importante anche valutare quello che dicono i regolamenti per le omologazioni appunto degli impianti stessi. Io dico che lo stadio è della città e quindi deve essere tutta la città che ne deve beneficiare. Il rugby, il calcio, l'atletica leggera, sia quella agonistica sia quella amatoriale che si svolgeva e si risvolgerà nuovamente all'interno dello stadio, devono essere attentamente valutate e attenzionate da questa amministrazione ed è chiaro che l'omologazione del manto erboso deve passare dai regolamenti, i regolamenti che fanno le federazioni e vengono approvati dal CONI. Io sono certo che leggendo proprio quei regolamenti si può trovare una soluzione al problema e comunque ribadisco sempre il fatto che la nostra amministrazione, sindaco in testa, siamo sempre stati e saremo sempre disponibili a dialogare con le due federazioni per trovare una soluzione che deve venire però dall'ambiente sportivo, quindi dalle federazioni e dal CONI, per trovare una soluzione anche magari sperimentale, per risolvere definitivamente questo problema che credo che non sia soltanto dello stadio di Caltanissetta ma che interessi un po' le altre città dove ci sono impianti tipo polivalente dove si svolgono attività sportive di diverso genere. La morte dell'avvocato Tullio Giarratano commozione in città Ha suscitato commozione e sorpresa il decesso dell'avvocato Tullio Giarratano, 80 anni, personaggio molto conosciuto in città. Negli anni scorsi aveva ricoperto l'incarico di presidente di Assindustria ed era stato anche direttore generale del Consorzio Asi di Caltanissetta, oltre che componente del Rotary Club. Nel corso delle sue esperienze era anche intervenuto sui problemi della città per cercare di proporre soluzioni per il territorio. Essendo vicino al mondo imprenditoriale, aveva vissuto gli sconvolgimenti che portarono alle rivoluzioni ai vertici di Assindustria nissena, tanto che alla luce degli eventi aveva anche deciso di costituirsi parte civile nel processo sul cosiddetto sistema montante, durante il quale era anche salito sul pretorio come testimone. I funerali dell'avvocato Giarratano si svolgeranno venerdì 7 ottobre alle 11 in Cattedrale. Situazione Covid in Sicilia, contagi in aumento a rischio adolescenti e persone over 60. Contagi in aumento in Sicilia per quanto riguarda il Covid. Dai dati rilevanti dal DASO i casi arrivano al più 23,56%. A rischiare maggiormente sono gli adolescenti, gli over 60. Nella ultima settimana di settembre l'impennata dell'incidenza del tasso dei positivi ha fatto toccare quota 8.000 casi in più in Sicilia. Sebbene con una riduzione dei casi che necessitano di ospedalizzazione, si vedono tre città superare la media regionale, ovvero Siracusa, Messina e Catania, che superano il dato dei 106 casi su 100.000 abitanti, rispettivamente con 207, 239 e 191 casi. Ad essere colpiti in questa nuova ondata del virus sono le persone tra gli 11 e i 13 anni e tra i 60 e i 79 anni. Dal 13 luglio è partita la campagna vaccinale per la quarta dose, per gli over 60 e per le persone ad elevata fragilità over 12 anni, purché sia stato superato l'intervallo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione successiva a richiamo. Il Ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione del booster dal 7 settembre per quanto riguarda i vaccini mRNA bivalenti original e Omicron BA agli over 60 e alle persone di elevata fragilità e alle fasce ed età over 12 in attesa della prima dose di booster, includendo anche gli operatori sanitari o aspiti operatori delle RSA, ovvero delle residenze per anziani e anche per 100 donne in gravidanza. Dal 23 settembre è autorizzato anche l'utilizzo di vaccini mRNA per la quarta dose su richiesta e a tutti i soggetti over 12 anni che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Mussomeli punta sul turismo con un nuovo progetto annunciato dal sindaco Giuseppe Catania. A Mussomeli qualcosa si muove anche per quanto riguarda la crescita del turismo. Dopo varie campagne di marketing, tra cui l'adozione delle case ad un euro, dopo varie campagne di crowdfunding volte a far crescere l'interesse verso la cittadina, adesso l'amministrazione, guidata dal ne eletto deputato regionale Giuseppe Catania, punta ad un finanziamento importante. Con questo si vuole replicare l'iniziativa di successo di Sciacca, quella del Museo Diffuso dei Cinque Sensi, che ha fatto registrare un approccio di sistema al tema dello sviluppo turistico sostenibile, con benefici economici per tutta la popolazione. Il Comune di Mussomeli, dunque, ha presentato un progetto ambizioso che prevede un finanziamento di quasi 2 milioni, 1,9 per l'esattezza, a valere sulla misura Montagne Italia del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo. Ed il progetto ha come fine quello di creare le condizioni per valorizzare la comunità. Questo coinvolge molti partner, interni ed esterni, con esperienze già nel terzo settore. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, tramite le parole del primo cittadino del luogo Giuseppe Catania, rilasciata ai nostri microfoni. Abbiamo presentato, come Comune di Mussomeli, insieme a vari partner locali, regionali, ma anche nazionali, un progetto, Mussomeli Genius Loci, di 1,9 milioni, basato su un viso pubblico del Ministero del Turismo. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale presente nel territorio, costruire una nuova offerta turistica sulla scorta di un segmento di mercato particolarmente in crescita in questi ultimi anni, che è il turismo relazionale. La costruzione del progetto è stata fatta a più mani, coordinata da un'equipe di esperti, tra i quali Viviana Rizzuto, che è l'ideatrice del Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, che ha vinto vari premi a livello nazionale come migliore start-up nel settore turistico. Tra i vari interventi, ricordo interventi finalizzati alla valorizzazione della Settimana Santa con il coinvolgimento del confraternite, interventi finalizzati alla realizzazione di eventi di richiamo turistico, sia sul piano sportivo che sul piano artistico. E ricordo anche la sceneggiatura di una serie televisiva da realizzarsi sul nostro territorio, che ha come obiettivo quello di promuovere i profumi, i sapori, i paesaggi del territorio, ovviamente in chiave romanzesca. Libertà, donne e diritti. Iran chiama Europa. È il titolo dell'incontro organizzato da Hauser Caltanissetta, Movimento di Volontariato Italiano e Comune di Caltanissetta, venerdì 7 ottobre alle 17.30 in via Xiboli, alla Casa delle Culture del Volontariato. L'incontro affronterà il tema di estrema attualità attraverso la voce dei rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti del mondo del volontariato, attivisti, giuristi, e saranno ascoltate delle testimonianze. Si va verso la festa della Madonna del Rosario a Sabucina. Sentiamo il servizio. Comincia proprio oggi 6 ottobre a Sabucina il triduo di preparazione in attesa del giorno della festa in onore della Madonna del Rosario. La comunità parrocchiale infatti si raccoglie in preghiera sino a domenica, quando intorno alle 17 comincerà una processione accompagnata dalla banda musicale, seguita poi dalla celebrazione della messa all'aperto intorno alle 18.30, e poi i festeggiamenti si chiuderanno con i fuochi d'artificio. Dopo la pandemia finalmente possiamo riprendere la tradizionale processione in onore della Madonna del Rosario, alla quale la chiesa è intitolata. La festa è una devozione mariana, perché come dicevo appunto la chiesa è intitolata la Madonna del Rosario. In passato la chiesa è stata parrocchia, quindi aveva le attività tipiche e ordinarie della parrocchia. Era una parrocchia rurale naturalmente per la conformità anche del territorio circostante. Poi con gli anni il territorio si è un po' svuotato dai suoi abitanti e la chiesa è stata ridotta a rettoria affidata alle cure del parroco di Santa Barbara. E quindi sia il mio predecessore, padre di Vincenzo, oggi ci occupiamo della cura anche di questo luogo, che nonostante tutto comunque è utilizzato, perché comunque di tanto in tanto noi celebriamo, utilizziamo la chiesa e i locali attigui per ospitare gruppi, attività scout, ritiri spirituali, si celebrano anche alcuni matrimoni. Quindi è un luogo che alla fine ha ancora una sua frequenza, anche un suo valore, soprattutto per coloro che affettivamente sono cresciuti in questa chiesa, in questi luoghi e tornano volentieri a visitarla. Si prevedono anche dei momenti di intrattenimento e condivisione, come la Sagra della Salsiccia e poi ancora l'artista Carlo Canebba sarà ospite della serata organizzata dal Comitato Profesteggiamenti di Sabucina sabato 8 ottobre. Sarà presente anche Antonella Cirrone. Ci sono degli eventi collaterali che sono organizzati dal Comitato della Madonna di Sabucina, un gruppo di persone che frequentemente, abitualmente recitano il rosario durante l'anno nella chiesa, si prendono cura anche della stessa chiesa, curando tutti quegli aspetti minimi della manutenzione ordinaria, garantendo così anche la fruibilità e l'accessibilità di questi luoghi. Tra gli eventi collaterali è prevista una serata con il conimico Canebba che si svolgerà il sabato sera, lì nel piazzale esterno di fronte alla chiesa. Un sostegno della regione ha 58 imprese siciliane nel settore del turismo per partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali di Rimini, Londra, Barcellona e Cannes. È stata pubblicata infatti la graduatoria delle aziende che hanno aderito all'avviso progetti di promozione dell'export destinati a imprese del settore turistico e le loro forme aggregate e individuate su base territoriale del Dipartimento regionale del turismo. La graduatoria include agenzie di viaggio e tour operator e una per le strutture ricettive in modo da garantire la partecipazione ad almeno una fiera a tutte le aziende ammesse dall'avviso. San Cataldo, domenica, taglio del nastro al parco urbano Achille Carusi, definito un dono per la città. E mentre sta per iniziare la fiera San Cataldo, si preannunciano anche altri eventi nel weekend con il patrocino gratuito del comune sancataldese. Sabato 8 ottobre verrà inaugurata alle ore 18 l'esposizione curata da Calogero Barba dal titolo Total Fluxus 1962-2022 Vecchie Glorie, evento voluto dall'Associazione Culturale Calat. L'esposizione rimarrà aperta dal martedì al sabato dalle ore 18 alle 20, mentre rimarrà chiusa la domenica e il lunedì. Comincerà invece all'aria aperta il giorno in cui si celebra la festa patronale del Santissimo Crocifisso con il taglio del nastro, domenica 9 ottobre al parco urbano Achille Carusi. Un dono per la città è infatti il nome dell'appuntamento promosso dall'Associazione Straula impegnata da tempo nella valorizzazione dell'area e che adesso consegna la città per l'appunto. Achille Carusi rappresenta il futuro della città, un progetto allo stato embrionale che può diventare la svolta green del nostro territorio. Ma la Piana ha rappresentato anche una pagina importante di storia fin da tempi antichissimi e tutto ciò ne arricchisce il valore. Per questo è importante salvaguardarla e rivitalizzarla. L'Associazione di Promozione Sociale ha ideato questa giornata insieme alle altre realtà che in questi mesi hanno contribuito a realizzare questo progetto. Si parlerà anche di storia con Marco Anzalone, appassionato di storia locale, che collabora con l'Associazione che racconta del parco e delle sue origini anche all'interno di un prodotto video, grazie a immagini, parole, filmati e riferimenti storici. Alle 17 di domenica 9 ottobre sarà presentato nella sala conferenze della Fondazione Sicane in via Crispi a Caltanissette il nuovo romanzo di Anna Mosca Pilato. La bambina dai capelli finti, il titolo, romanzo di formazione che si trasforma in un thriller. La protagonista, Erina, è una bambina che vive negli anni 50 e che dopo 30 anni torna nei luoghi della sua infanzia. Una piccola città siciliana di provincia fa da sfondo agli eventi che travolgeranno anche drammaticamente la protagonista stessa. Un mistero che per tutta la durata del romanzo tiene sul filo il lettore. Alla caserma Ivagnes di Caltanissetta i vertici della Guardia di Finanza hanno ricevuto il brigadiere capo Filippo Cosentino in occasione del congedo di quest'ultimo per testimoniare il legame indissolubile che unisce gli appartenenti alle fiamme gialle sia in servizio che in congedo. Al brigadiere capo Cosentino e alla sua famiglia il comandante provinciale e tutte le fiamme gialle nissene hanno formulato i migliori ospici per la nuova avventura che andrà a intraprendere. Certi di poter contare in qualsiasi momento su di un collega esperto e altruista che anche in congedo non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza. Donazione di sangue, campagna di sensibilizzazione al liceo Ruggero VII. Sentiamo i particolari. All'istituto liceo classico Ruggero VII si è tenuto un convegno della FIDAS sulla sensibilizzazione della donazione di sangue da parte dei giovani per avvicinarli a questo mondo e fargli capire il motivo importante della donazione. A fare gli onori di casa la preside del liceo classico Irene Collerone coadiuvata da altri professori e i volontari della FIDAS rappresentati da Ennio Madonia e Nello Ambra destinatari del convegno le classi quinte del liceo che si apprestano a diventare maggiorenni e sensibilizzare la donazione tra di loro coetani ed amici. Ogni anno la nostra scuola accoglie per ben due volte all'anno le associazioni del territorio che si occupano di donazione di sangue. Quest'anno è il primo incontro con la FIDAS per sensibilizzare alla donazione del sangue. Un'attività che ha visto negli anni coinvolto il nostro liceo e tutti i ragazzi del quinto anno e comunque diciottenni che hanno potuto conoscere questa realtà e in grande maggioranza hanno accotto l'invito alla prima donazione. Come ogni anno la FIDAS promuove la donazione del sangue. Lo promuove nelle scuole perché il target dai 18 ai 65 anni che è di età in cui si può donare prevede il coinvolgimento ci teniamo tanto al coinvolgimento dei giovani e chi se non gli studenti dell'ultimo anno delle scuole possono essere interessati. Noi cominciamo quest'anno con il liceo classico che è molto attenta col preside Collerone e tutto il corpo docente a questo problema è sensibile e ci mette a disposizione oggi l'aula magna come ogni anno per poter comunicare con i giovani studenti e far sì che possano venire a donare. Noi per l'undicesimo anno consecutivo ritorniamo nelle scuole perché è l'unica fonte dove poter attingere a nuova gioventù a tanti ragazzi che possono donare perché purtroppo l'età media dei donatori si è innalzata notevolmente e quando si superano i 65 anni non si può donare più. Noi attualmente siamo in emergenza purtroppo essendoci 120 talassemici a Caltanissetta solo per loro occorrerebbero ben 6.000 sacche perché il talassemico ogni 15-20 giorni ha di bisogno 3 sacche di sangue. Nuovo appuntamento con la settantesima stagione concertistica promossa dall'Associazione Amici della Musica di Caltanissetta direttore artistico il maestro Crocifisso Ragone e presidente Massimo Pastorello dedicato al presidente onorario il maestro Giuseppe Pastorello. Protagonisti del secondo concerto il duo composto da Valerio Palumbo alla Trombe e Pietro Lagreca al pianoforte venerdì 7 ottobre alle 18.15 nell'auditorium del liceo musicale Manzoni-Juvara di Caltanissetta ingresso libero. E passiamo allo sport calcio campionato di eccellenza in una nota la Nissa fa sapere di aver affidato l'incarico di massaggiatore della prima squadra a Francesco Sacco sancataldese con una lunga esperienza alle spalle. In passato Sacco ha fatto parte dello staff biancoscudato durante la presidenza di Luca Mannino. è stato anche in forza alla San Cataldese e all'Atletico Caltanissetta in promozione. Bene per questa edizione è tutto vi lascio al Meteo e alle notizie di pubblica utilità. Grazie per essere stati con noi appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di venerdì che ancora vedrà alta pressione bene o male sul Mediterraneo e su Italia una debole zona di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale spinge qualche annuvolamento verso la Sardegna ma in generale ancora tempo bello in gran parte del paese. Controliamo la nuvolosità attesa sull'Italia vediamo qualche nuvola appunto sul Mediterraneo occidentale che si avvicina alla Sardegna e poi delle velature che transiteranno al centro-sud ma davvero senza particolari conseguenze. Precipitazioni praticamente quasi del tutto assenti nel nostro paese le nubi sul Mediterraneo occidentale ripeto per il momento si avvicinano solo alla Sardegna quindi ben poco da segnalare insomma in definitiva ci attende l'ennesima giornata di tempo bello con sì abbiamo visto qualche velatura in transito al centro-sud poi a fine giornata qualche nuvole in più in Sardegna al mattino presto un po' di umidità in pianura padana quindi nuvole basse e foschia ma per il resto gran sole temperature sempre molto miti 25-26 gradi di massima per sapere poi come andranno le cose nel weekend dalle vostre parti consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Scarantino Via Paolo Emiliani Giudici Servizio notturno Del Poggio Viale Luigi Monaco